Ciao a tutti da JGR Studios, il nostro canale dedicato alle lezioni, recensioni e tutorial sull'audio recording. Vi ricordo che i nostri corsi ufficiali certificati Presonus Studio One sugli altri software e sulle tecniche di audio mixing e mastering sono disponibili sul sito proaudiolearning.com. Non dimenticate inoltre di iscrivervi al canale cliccando sul pulsante sotto a destra e di attivare la campanella per ricevere notifica dei nuovi video caricati. Tutti i link sono in descrizione. Eccoci al primo video del 2021 e questa volta lo dedichiamo a Accusonus Era 5 Bundle. Infatti una delle tante richieste che spesso mi viene fatta è come posso aggiustare la voce che ho registrato, come posso sistemare i problemi di un dialogo registrato. Durante le varie fasi di lavoro o in base ai lavori che arrivano in studio spesso capita di dover sistemare problemi di datura tecnica. Infatti potrebbe arrivare una voce non intonata, registrata male, con difetti di ambiente, pops, esse molto pronunciate, effetti di prossimità eccetera oppure dover restaurare vecchie registrazioni da nastro casalinghe dove sono presenti dei clicks o dei pops. In questi casi vengono applicati algoritmi di correzione appositamente dedicati e pensati per questo genere di lavori. Sono situazioni che capitano non soltanto nel campo musicale ma soprattutto nel campo del doppiaggio degli audiolibri, delle riprese in diretta, di interviste o films. Come sistemare quindi tutte queste tracce che non possiamo più rifare? Per questo motivo sono stati creati tantissimi tools di ritocco e fixing proposti dalle varie software house. Ne vedremo alcuni in questi tutorials. Non sono un amante dei preset e lavoro molto di cesello sulle voci che ascoltate nei miei album. Grazie a studio one posso essere estremamente preciso e dettagliato negli interventi ma quando si tratta di dover lavorare su ore di riprese audio come nel caso dell'audio di un libro o di uno spettacolo teatrale o di un film lavorare a mano in maniera dettagliata diventa incompatibile con il budget time a disposizione delle produzioni. In sostanza bisogna portare in lavorazione video le tracce audio in poche ore e non giorni. Gli strumenti che uso più spesso sono accusonus era 5 isotope rx e con digital hornet dsp4 eccetera ci sono diversi tools più o meno efficaci per ogni tasca e prezzo. Nel mio corso di studio one ho creato delle lezioni sulla correzione della voce cantata sull'uso di melodine sull'uso dell'editing avanzato ma se invece ci troviamo a lavorare l'audio su diverse piattaforme soprattutto video come su premiere final cut o da vinci siamo costretti ad utilizzare i tools in formato plug-in. In questa lezione vedremo come utilizzare accusonus era 5 era 5 è un vero e proprio audio repair bundle creato e pensato per i video creator e il tool perfetto per l'audio correction dei dialoghi. In questa nuova versione è stato creato un rack virtuale chiamato audio cleanup assistant nel quale caricare all'interno i plug-in di correzione avvantaggiandoci anche di preset appositamente pensati per tutti i plug-in contemporaneamente come in una channel strip salvabile. Lo stesso sistema che abbiamo visto utilizzare in infinite strip di psp i plug-in sono il noise remover con questo slot possiamo e saremo in grado di pulire i rumori ambientali rendendo la voce più intellegibile senza artefatti riduce quindi i rumori di aria condizionata ventole rumori elettrici hum e is con un solo controllo saremo in grado di sistemare queste problematiche ed è utile anche per le tracce di registrazione di alcuni strumenti in ambienti troppo rumorosi. Proseguiamo con voice dipner questo slot è particolarmente adatto per dare corpo alle voci flebili o alte rendendole più profonde in realtà un pshifter molto ben fatto in grado di darci una voce profonda attenzione ad utilizzarlo con voci dove è presente anche un suono di strumento altrimenti cambierà il pitch anche di quello sto parlando magari di registrazioni di pianoforte voce o chitarra e voce particolarmente adatto nel mio caso nella creazione di voce un'ottava sotto nei cori lo trovo utile e funzionale il voice auto eq questo slot è un equalizzatore rapido che muove la curva di intervento con un solo controllo lo vedremo subito in azione in realtà muove una curva di intervento con un solo controllo in grado di rendere la traccia di voce più corposa e chiara possiamo quindi muoverci più su hair sulle alte sulle basse o sulle enfatizzazioni è un eq rapido pensato per i dialoghi proseguiamo con voice liveller ci viene chiesto ovviamente di controllare di rimuovere il rumore di fondo sulla voce prima di utilizzarlo un tool molto utile per mettere a fuoco la voce sempre soprattutto quando lo speaker si sposta fuori dal microfono o quando ad esempio condivide un microfono in una trasmissione televisiva tra i diversi ospiti una sorta di auto gain molto efficace quando invece abbiamo delle voci che si muovono in ambienti riflettenti possiamo utilizzare il reverb remover ho creato una voce registrata in una stanza vuota sentiamola facciamo un test mi trovo in una stanza che riflette molto la voce ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra facciamo un test mi trovo in una stanza che riflette molto la voce ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra ovviamente sono aumentate tantissimo le s per cui potremo utilizzare il dsr il dsr è uno slot molto interessante estremamente utile e che individua le s pronunciate dal cantante o dal parlante in questo caso per attenuare tutte quelle frequenze alte e fastidiose che vengono accentuate quando poi si applica un compressore abbiamo già visto altri dsr sul mio canale più professionali come vice o south ma questo è utile e funzionale nella catena facciamo un test mi trovo in una stanza che riflette molto la voce ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra il declipper è un altro tool dedicato alla correzione del clip del microfono quindi quelle distorsioni o over signal che rendono meno intellegibile il dialogo quando un picco va in distorsione diventa aspro e fangoso con questo slot possiamo correggerlo al meglio altro ambiente molto riflettente ciao a tutti da jgr studios il nostro canale dedicato alle lezioni recensioni e tutorial sull'audio recording non dimenticate di iscrivervi cliccando sul pulsante sotto a destra arriviamo infine ad uno dei miei preferiti il plosive remover uno dei tool più pratici e spesso assenti negli altri software riesce a limitare il bump o le p troppo pronunciate a causa della mancanza dell'antipop che si usa in studio di registrazione o causati dalle folate di vento molto forti o dagli urti che si possono dare accidentalmente a un microfono lavalier è in sostanza un filtro passa alti che possiamo anche programmare il studio one molto utile l'ho utilizzato spessissimo sui dialoghi e su alcune tracce di voce live prendiamo ad esempio questa parte cantata cantata da Alex un mio allievo vediamo quando è intercettata la P ed è molto utile andiamo nella parte più questo corregge anche quando ad esempio sbattiamo con la bocca sul microfono sono tutte quelle situazioni in cui appunto abbiamo dei piccoli plosive quindi delle pi fastidiose da poter correggere molto velocemente andiamo su una sezione molto complessa come ad esempio la ripresa di una telecamera quindi da lontano una sorta di riunione sentiamo un gran frastuono infatti apriamo all'interno il nostro audio cleanup assistant in questo caso possiamo scegliere tra i preset direttamente quindi avere una sorta di preimpostazione su cui puoi lavorare per la correzione finale proviamo un low quality audio repair ho preso una registrazione estremamente rovinata scritti documenti e naturalmente dei due toni delle quattro testi di scritti documenti e naturalmente dei due toni delle rendiconti chiudendo così la serie quinta delle con lo stesso anno da adesso io dovrei essere in grado di presentarvi qualcosa almeno la copertina della serie sesta ascoltiamolo ora senza la mia correzione quanti di 24 testi di scritti e naturalmente dei due toni delle rendiconti chiudendo così la serie quinta delle con lo stesso anno da adesso io dovrei essere in grado di presentarvi qualcosa almeno la copertina della serie sesta come vediamo era 5 è un eccellente tool per chi lavora in video e deve correggere spesso dialoghi oppure per chi deve sistemare registrazioni danneggiate o impossibili da rifare lo strumento è ideale per chi fa mastering per i registi i montatori gli influencer di youtube i podcaster e soprattutto i doppiatori il costo in affitto è di 4 dollari e 79 al mese veramente veramente poco ed è adatto a tutte le esigenze di produzione entry level semi pro il mio consiglio come sempre di scaricare la demo e provarli nei prossimi video vedrete altri tools di altre software house spero che questo video vi sia stato utile vi aspetto ai miei seminari al corso professionale presso il mio studio nei corsi online sul sito pro audio learning punto com affronteremo i vostri mix insieme e li finalizzeremo nella fase di mastering per gli iscritti ai corsi sono disponibili inoltre plugin e librerie gratuite oltre a nuovi video esclusivi ogni mese continuate a seguirmi su facebook youtube e music off non dimenticate inoltre di supportare queste lezioni gratuite attraverso il canale patreon che trovate in descrizione se vi è piaciuto cliccate subscribe e attivate la campanella per il momento è tutto ciao a presto